segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e le parole possono cambiare il pensiero ecco questo detto io non ho mai ritenuto dei fascisti comunque il passato è passato è andato stasera sento dire da bersani delle cose in materia di comportamento dell'europa negoziato che io personalmente in questo studio detto un mese e mezzo fa io non sento più nessun leader importante europeo per non parlare di biden johnson pronunciare la parola negoziato credo che l'altro ieri generale tricarico ex capo di stato maggiore dell'aeronautica quindi non un leon cavallino ha detto biden non vuole la pace è vero l'america non vuole la pace e ha detto che non ha mai sentito dire da blinking stoltenberg johnson e biden la parola negoziato io non so se l'abbiano pronunciato fatto sta che non si pronuncia più perché come dice oggi bersani obiettivo di un'europa del tutto spalmata come una soglio la supposizione nord americane e dell'america non è più che la guerra finisca al prima possibile ma vincere la guerra la von der leyen dice io credo che l'ucraina possa vincere la guerra qua si vuole combattere una guerra fino all'ultima goccia di sangue chiaramente ucraino continuando a inviare armi poi lui sarà però sono loro che vogliono continuarla e zelensky il loro capo dice noi continuiamo è un loro diritto io non mi metto non mi permetto di dire quel che deve fare l'ucraina io posso permettermi di dire quel che dovrebbe fare l'italia essendo città europea anche l'europa punto è questo che loro abbiano il diritto a resistere non c'è dubbio vorrei capire chiedo a bersani anche perché una delle accuse che vi faccio è non avere posizioni radicali su determinate questioni banalmente la questione palestinese per quale motivo non si debbono dare delle armi ai palestinesi che combattono contro un'occupazione straniera militare e vivono sotto apartheid posto che io non vorrei dare le armi a nessuno è anche perché credo nella costituzione e quell'articolo 11 della costituzione lo scrissero ex partigiani la maggior parte dei padri costituenti avevano fatto la resistenza eppure dopo aver fatto la resistenza hanno scritto che l'italia ripudia la guerra anche pierluigi come strumento di risoluzione delle controverse internazionali